Buonsoir Jennifer Mourke, a quale age hai iniziato a giocare Bridge? Ho iniziato a giocare in scuola quando ero 10 anni. Dicami qualcosa sui primi passi nella comunità Bridge, nel club per esempio. Ho iniziato a giocare in scuola quando ero 15-16 anni, quindi le persone erano davvero bello con me. Mi hanno aprenduto molto, quindi è stato davvero divertente in questo club. E quando sei a casa, quanto tempo hai dovuto a Bridge, per esempio, di Sistem, di BBO o qualcosa di tipo? Ho parlato un po' con i miei partner su Sistem. Noi giochiamo molto perché lavoriamo tutti in Bridge, quindi non abbiamo molto tempo, ma parliamo di BBO. Sono più divertente su BBO, ma non giochiamo molto. Sei più scherzata di giocare contro le opzioni, o di avere esperienze team-mati sul tuo team? Non mi sono scerzata di giocare contro le giochiamo, perché è sempre interessante. E avere una squadra forte, è molto bella, perché sono sempre buoni, quindi è incredibile. Grazie mille! Grazie! È facile? Non, non! Grazie a tutti!